E' un grandissimo risultato, questa testimonianza è un'amministrazione che guarda lontano, è un'amministrazione che fissa e blinda quelli che sono gli eventi più importanti sportivi a carattere europeo. Portare i campionati europei di ciclismo in Abruzzo è uno dei traguardi più importanti per quanto riguarda l'offerta sportiva che ha dato la regione Abruzzo ai suoi concittadini, quindi oggi alla presenza del Presidente federale europeo della Casa e del Presidente italiano D'Agnone faremo questa firma insieme al Presidente Marsilio, quindi metteremo la prima pietra miliare per quanto riguarda questo grandissimo evento.